Di tutto i pratesi san far guadagno, a cominciare dagli stracci che arrivano a Prato da ogni parte del mondo, dall'Asia, dall'Africa, dall'America e dall'Australia, più sozzi, più pidocchiosi, più cenci sono e più so materie preziose per un popolo che sa far ricchezza dei rifiuti di tutta la terra. Così Curzio Malaparte descriveva l'attività delle lane rigenerate di Prato in maledetti toscani. Prato e i suoi cenciaioli, che a mani nude per decenni hanno diviso i brandelli di tessuto usato per colore e composizione, creando cumuli di stoffe dal grande potenziale produttivo e dal forte impatto cromatico, rivivono oggi nel documentario di Tommaso Santi, Stracci, prodotto da Cove e sostenuto da Toscana Film Commission per il programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. È un racconto che parla di un'esperienza antichissima, vecchia di più di 150 anni, ma che improvvisamente è diventata di grande attualità e di grande importanza perché svolge un servizio anche a favore dell'ambiente così significativo. Cioè un'esperienza in cui gli abiti usati di lana vengono trasformati prima in fibra e poi di nuovo in tessuto. Un documentario pieno di fascino, di interesse e anche direi magico perché vedere com'è che un vestito usato, una maglia usata diviene prima fibra, poi di nuovo tessuto e poi di nuovo abito è davvero un'esperienza anche visiva incredibile. Il film è un viaggio che fa tappa nei luoghi che oggi sono diventate nuove discariche di tessuti provenienti da tutto il mondo per denunciarne pericoli ambientali ma anche per metterne in rilevo le potenzialità economiche. Il riuso e il riciclo dei tessuti possono infatti diventare un'opportunità per i paesi emergenti sulle orme del modello pratese. Partendo da qua abbiamo fatto un viaggio che ci ha portato anche in altre parti del mondo per raccontare quello che è l'impatto dell'industria dell'abbigliamento sull'ambiente, in particolare per esempio ci ha portato ad Accra dove vediamo che fine fanno tanti dei nostri abiti usati e gettati che non hanno nessun'altra vita e nessun altro destino possibile che non quello di finire in discarica ed essere bruciati. È un viaggio significativo che poi finisce il giro tornando a Prato e all'esperienza pratese non perché sia unica ma perché è comunque un'esperienza esemplare e che in qualche modo segna una via di uscita possibile.